Buongiorno amore, ciao, ciao amore, buongiorno, 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 sei tutto un imbambito, sì, ciao, buongiorno anche a te, buongiorno anche a te, tanti baci, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Prima cosa, la mattina in terrazzo, si va, la tastellina sta già là, sì, bravo amore, bravo, bravo, e buongiorno anche a te, signora gata tastellina, buongiorno, occhio di smeraldo, buongiorno, niente, lei, proprio niente, sì, tu sei geloso, ho capito, ho capito, gelosetto, gelosetto, amore mio, posso filmare l'albero un secondo? Sempre solo te devo filmare? Ah, scusa, non lo sapevo, ecco, adesso posso? Grazie, volevo semplicemente inquadrare l'albero, ma Gatto Denver non me lo permette, perché deve essere sempre lui il protagonista, volevo solo dirvi che sono strafelice, di nuovo, del mio albero, super, basta, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio. Sono super orgogliosa del mio albero quest'anno, ragazzi, veramente, penso che sia il più bello che ho mai fatto, super, super proud. Buongiorno ragazzi, ovviamente della faccia, lo vedete, mi sono appena svegliata, ma, adoro, perché ieri ho fatto, a parte che sono stata del parrucchiere, è già la piega, cioè, ieri pomeriggio, ok, è già la piega, praticamente, è quasi inesistente, sorvogliamo, che veramente i miei capelli non tengono mai la piega, purtroppo, però, sono felice di aver fatto finalmente i colpi di sole, non si vede più quella bruttissima ricrescita, anche se in tanti mi avete detto che, in fondo, non era poi così male, perché alla fine, tra il biondo mio e il biondo chiaro, così si sfuma, diciamo che, appunto, non, non era poi così malaccio, però, stava diventando un po' troppo, diciamo. Comunque ragazzi, devo ancora svegliarmi, onestamente, sto ancora dormendo e non ho il mio Starbucks stamattina, perché qui ho fatto un ordine sabato scorso dal supermercato e mi arriva questo sabato, cioè, ci mette sette giorni, ci mettono sette giorni a portarmi la spesa, infatti è terribile sta cosa e quindi non ho i miei Starbucks, ma mi arrivano dopo domani, potrei andare al supermercato, effettivamente, di nuovo. C'è andata, li ho finiti, quindi ragazzi, oggi sono un po', appunto, ancora nel mondo dei sogni e non avendo il mio caffè, sarà un po' così, presumo, per tutta la giornata, tipo, ormai mi sono abituata e non riesco a stare senza i miei Starbucks, specialmente il white chocolate mocha natalizio. Ok, comunque, adesso, visto che ho lavato il viso in doccia, ma non ho applicato gli idratanti, sento la pelle che mi tira e quindi facciamo la nostra skincare. Oggi, tra l'altro, utilizzeremo i prodotti Be On Me, quindi facciamo la nostra skincare con questi prodotti che ho iniziato ad utilizzare da un po' ormai. Primo tra tutti, volevo menzionarvi lo Spot Treatment, che è un trattamento per i brufoli, va utilizzato proprio sull'imperfezione e si usa di notte. Io l'ho applicato ieri notte su un po' di brufoletti che avevo qui, che però ormai sono praticamente quasi spariti, è miracoloso questo prodotto. Se hai un brufolo, in una notte veramente te lo asciuga ed è anche molto delicato, quindi non arrossa la pelle. Va applicato però semplicemente dal tubetto così, non va né picchiettato né spalmato, è un prodotto particolare, ma miracoloso per quanto mi riguarda. Contorno occhi vado ad applicare l'Eye Lift Serum, questo è un siero idratante appunto per il contorno occhi e mi piace moltissimo perché è delicato, si assorbe in fretta e va benissimo anche come base per il trucco. Come sempre ne porto un po' anche sui solchi nasolabiali, quindi dal naso alle labbra. E poi come idratante per il viso vado ad applicare la Face Cream Combination Skin, questa è una crema studiata appositamente per le pelli miste. E ultimamente la mia pelle, un paio di brufoletti e la noto anche più grassa, cioè è molto più unta oleosa del solito, non so come mai. Di solito quando fa freddo è il contrario, ma in questo periodo è un po' così. Se avete la pelle appunto mista, impura, tendenza acneica, questa crema è fantastica, ha una texture molto leggera, si assorbe in fretta. Se non conoscete questo brand dateci un'occhiata, c'è il link qua sotto nel box informazioni e mi hanno dato anche un codice sconto per voi del 20% che è glitter, come sempre ve lo lascio qua e sarà attivo per tutte le vacanze natalizie fino al 9 di gennaio. Altro prodotto che non vado ad applicare adesso perché lo applico solitamente la sera è una maschera. Questo è un prodotto unico che non avevo mai trovato da nessun brand perché è una maschera per il contorno occhi e per le labbra. Stesso prodotto, doppia funzione ragazzi, è pazzesco, lascia le labbra morbidissime, il contorno occhi è uguale però appunto io di solito lo applico la sera e prima di andare a dormire va comunque risciacquata e sì anche questo è fantastico, forse è il mio prodotto preferito di Be On Me. Ok ragazzi passiamo al trucco, oggi naturalmente primer per pelli grasse perché appunto ultimamente la mia pelle sta dando un po' di matto quindi ho quello di Fenty Beauty il più opacizzante che c'è. Fondotinta, sempre Diego Dalla Palma ragazzi, combo che funziona non si cambia. Oggi ho una nuova Beauty Blender che spero non rilasci colore perché a volte quelle scure e nuove un pochino di colore lo lasciano ma questa non mi sembra niente male. Comunque ragazzi mi fate tantissime domande sempre sulle mie ciglia, io ne parlo tantissimo però mi chiedete sempre tantissime informazioni su come faccio a avere le ciglia così lunghe è una combinazione tra sieri e mascara in realtà perché ovviamente non ho, cioè se mi conoscete da un po' sul mio canale, se lo seguite da un po' sapete che le mie ciglia non sono naturalmente così lunghe sono diventate così lunghe perché utilizzo i sieri con costanza, non salto mai, neanche un'applicazione ogni sera e il risultato appunto sulle mie ciglia è questo i sieri sono Revitalash, lo applico solo sulla base delle ciglia quindi all'attaccatura e poi invece applico Hairburst su tutta la lunghezza sono due scovolini diversi, Revitalash ha un pennellino che va appunto applicato sulla base e poi Hairburst ha tipo lo scovolino del mascara quindi vado a pettinare la lunghezza e le sopracciglia con quello Hairburst e questo ragazzi mi ha fatto crescere tantissimo le ciglia poi naturalmente dipende anche dal mascara che uso, ho scovato mascara pazzeschi che mi piacciono veramente tantissimo che sulle mie ciglia fanno un effetto wow e quindi continuo ad utilizzare quelli però ovviamente ci sono anche mascara che credetemi non mi fanno risaltare tantissimo le ciglia quindi sì tanto lo fanno i sieri però tanto lo fa anche il mascara e come mascara invece ultimamente mi stanno piacendo tantissimo il The Real Magnet di Benefit mi sta piacendo tantissimo lo Sky High di Maybelline e quello Pixi che non mi ricordo mai come si chiama Pixi by Petra mi sa di una collezione però anche quello era fantastico e sì ragazzi questi sono un po' i segreti delle mie ciglia tra l'altro avevo provato ad applicare poi i sieri soltanto una volta sì, una volta no cioè un giorno sì, un giorno no oppure due o tre volte alla settimana ma ho visto che le mie ciglia stavano piano piano tornando corte come una volta e quindi poi ho ricominciato con l'applicazione ogni sera, cascasse il mondo ogni sera perché io adoro avere le ciglia così lunghe mi fanno un sacco di complimenti, cioè per farvi un esempio ieri dalla parrucchiera anche lei mi ha fatto i complimenti sulle ciglia tutti mi chiedono come faccio ad averle così lunghe e appunto questo è il segreto ragazzi so che ve l'ho già detto miliardi di volte però continuate a chiedermelo ok? quindi questo è tra l'altro ragazzi ok cipria ci manca uso la Hyaluronic Hydra Powder amo questa cipria quando la finisco ne compro subito un'altra perché è fenomenale funziona molto molto bene sulla mia pelle e non si vede addosso oggi trucco molto naturale ragazzi mettiamo solo un po' di mascara e un po' di rossetto perché vado soltanto a fare qualche commissione in giro per il centro comprare le ultime cosine perché poi tra qualche giorno parto per l'Italia vado a Trieste per Natale e poi torno in realtà qui per Capodanno perché mi raggiungono degli amici poi lo passiamo qui assieme però sì a Natale invece sono a Trieste sto con i miei genitori quindi contenta l'unica cosa che non mi rende tanto felice è che l'Italia unico paese in Europa ha introdotto l'obbligo di tampone per chi arriva anche dai paesi dell'Unione Europea anche se sei vaccinato quindi praticamente sì questa cosa insomma che non sono tanto contenta di farmi nuovamente un tampone perché da quando sono vaccinata non ho praticamente a parte quando sono uscita dall'Unione Europea quando sono stata a Dubai e alle Maldive allora lì sì però non ho mai più dovuto fare un tampone e l'Italia è stata l'unica in Europa ad introdurre questa misura capisco però perché ovviamente vogliono giustamente cercare di non arrivare ai numeri alti e drammatici che abbiamo tipo qua in Olanda o peggio ancora in altri paesi quindi lo capisco però appunto altra cosa che devo fare oggi è prenotare il tampone se fate quello... ah sì quindi vi do anche questa informazione visto che sono il vostro centro informazioni turistico preferito praticamente sì anche se siamo vaccinati dobbiamo fare il tampone per rientrare in Italia per andare negli altri paesi no però per rientrare in Italia dobbiamo fare il tampone va bene anche quello rapido se si fa entro le 24 ore prima di partire il tampone è l'altro insomma quello classico invece si può fare entro 48 ore prima di partire e se siete vaccinati questo perché se non siete vaccinati e volete tornare in Italia oltre al tampone dovete farvi anche la quarantena che adesso non mi ricordo di quanti giorni sia non mi sono informata perché appunto io sono vaccinata e non devo farla però queste sono un po' le novità quindi sappiate che se venite in Olanda poi vi tocca irrimediabilmente se non siete vaccinati farvi la quarantena in Italia altrimenti appunto tampone per forza e questa misura so che è attiva da adesso tipo dal 16 dicembre una cosa che secondo me hanno sbagliato però ho sentito di molte persone che non sono riuscite a partire hanno dato la notizia e il giorno dopo praticamente era già attiva quindi molte persone che hanno saputo la notizia la sera prima e il giorno dopo sono impazzite per cercare di fare un tampone e molti non sono riusciti poi a tornare a casa quindi secondo me dovrebbero dare almeno un po' di preavviso in modo che la gente si prepari perché purtroppo non è sempre facile trovare subito un tampone così e nell'arco di qualche ora quindi io sono stata fortunata perché almeno l'ho saputo cioè una settimana prima della mia partenza però sì queste sono un po' le novità e mi ha un po' scoraggiato questa cosa ma poi ho deciso intanto spruzzo il fissante sempre prima del mascara altrimenti sbava mi raccomando e sì mi ha un po' così diciamo scoraggiato questa cosa del tampone ho pensato buh cosa faccio vado comunque e visto che l'anno scorso non sono riuscita ad andare a casa per Natale quest'anno volevo troppo andarci quindi farò il tampone e andrò comunque appunto per poi tornare qua a Capodanno sopracciglia Cabral di Benefit con pennellino incorporato adoro 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 questo prodotto mascara Sky High di Maybelline lo conoscete benissimo è fantastico io continuo ad amarlo e quando lo finisco devo assolutamente comprarne degli altri perché vanno sold out velocissimi risultato finale trucco appunto super leggero e sulle labbra ho usato questo di Mellow Cosmetics amo questo rossetto non ho più una scritta perché l'ho usato talmente tanto e si chiama Posh il colore che è appunto molto elegante secondo me molto carino e basta questo quanto ragazzi adesso esco ecco l'outfit di oggi ho il mio teddy coat lungo, caldo, super morbido e oversize poi questo maglioncino azzurro questo cardigan che ho preso su ASOS se non sbaglio si dovrebbe essere ASOS e poi jeans questi tra l'altro ragazzi sono a zampa ok approfitto oggi che non piove per metterli altrimenti chi è stato negli anni 90 sa che cosa vuol dire mettere i jeans così quando piove tipo con l'acqua che ti arriva fino a qua ho le sneakers queste sono semplici quelle di Gucci e la borsetta invece è questa Chanel color Tiffany bellissima la città in settimana molto tranquilla oggi è anche una bella giornata anche se fa freddo molto molto tranquilla in settimana devo dire nei weekend si riempie tantissimo è bellissimo passeggiare lungo i canali per andare a fare le commissioni con questa vista questa zona la riconoscerete perché qui tra pochi passi c'è la casa di Anna Frank se ci siete stati quanto possono essere belle queste casette ditemi con le serrande come si chiamano rosse sono troppo carine tra l'altro su questa barca c'è scritto su questa sì imbarcazione c'è scritto cheese museum c'è pure il libro di Natale se non so se lo vedete adoro bellissimo so che vi piace vedere Amsterdam quindi approfitto per farvi qualche ripresina pacchetto ritirato questo è di pixie sono venuta ieri a prenderne un altro comunque e ormai ci conosciamo quel tizio quindi sì pacchetto ritirato ok ho preso un sacco di roba anche più di quello che mi serviva in realtà e adesso ancora un paio di cose e poi è fatto se vi chiedete se i tour in battello sono aperti sì sono assolutamente aperti qui fanno i biglietti ed è assolutamente aperta anche la casa di Anna Frank che è questa qui c'è l'entrata sono tutti i musei sono aperti questa è l'entrata e lì più avanti qui si entra poi lì più avanti c'è la casa e questa era la casa dove abitava Anna Frank proprio questa qui c'è anche scritto che belle comunque queste decorazioni natalizie ragazzi wow carine adoro troppo le ghirlande davanti alle porte di casa sui canali c'è quanto è bella quando ho messo anche una decorazione là in alto adoro ok fatto tutto ho ritirato il pacchetto ho trovato tutto e adesso sto tornando a casa si sta anche piano piano no forse non si vede ma piano piano si sta già facendo buio ma buio prestissimo stranissima sta cosa comunque sì se vedete dietro di me c'è un casino perché oggi c'è la raccolta dell'immondizia la mettono davanti le case e poi appunto due volte a settimana vengono a recuperarla altra ghirlanda carina tutte le lucine amo ok dovevo troppo farvi vedere cosa ho trovato e per puro caso ho visto questi cerchietti con la scritta happy new year adoro per capodanno naturalmente ne ho presi subito due uno per me e per la mia amica adoro e poi ho trovato le candy cane ce n'era solo una scatola vanno a ruba io le amo sono stra buone spero però no perché ci sono sia quelle al sapore di fragola che quelle al sapore di menta io amo quelle originali alla menta e invece ultimamente le stanno facendo alla fragola tun 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 vabbè però per 50 centesimi e adesso le metteremo sull'albero perché già ne ho delle altre qui sull'albero però l'anno scorso me le sono pappata quasi tutte quindi sono rimaste tipo tre e quindi queste e poi ho preso anche un'altra cosa non potevo lasciarlo lì questo cingillo questa decorazione troppo bella ragazzi come facevo a lasciare lì una decorazione a forma di boccetta di profumo cioè è troppo bella troppo troppo carina ho aggiunto tutte le candy cane penso che sia molto meglio non so se si vede la differenza io la vedo ce ne sono molte di più guardate e poi la boccetta di profumo invece lo messa qui quanto è bella quando ero piccola mettevo tutte le decorazioni belle davanti e dietro era vuoto adesso almeno un pochino appunto poi non avevo fatto vedere questo nell'altro video che si accende ragazzi cioè trilli campanellino con la torre Eiffel anche questo ho preso Disneyland troppo bello ragazzi mi è appena arrivato un nuovo pacchetto d'ave e mei guardate che meraviglia è gigantesco e ho dato una sbirciatina secondo me vi fanno impazzire queste cosine guardate che roba ragazzi ci sono le cosine notalizie oh mio dio e tra l'altro non ci sono solo candele e profumatori ma c'è anche wow questo tè Christmas tea c'è già solo il pack mamma mia un profumo buonissimo questa è ispirata a Nuremberg Germany a Nuremberga che profumo no vabbè sono troppo curiosa di vedere il resto adoro no vabbè con tutte le stelline questa oh mio dio ragazzi profuma adesso capisco profuma davvero di champagne c'è scritto champagne e queste penso che siano ovviamente le bollicine no vabbè no vabbè oh mio dio qual è che inventeranno le videocamere che vi trasmettono il profumo perché c'è questa è la candela champagne ragazzi e ha un profumo di champagne buonissimo è proprio di serata festiva di capodanno proprio di brindisi con gli amici no vabbè io adoro questa è la mia candela preferita ufficialmente vi giuro cioè questa è la candela più buona del mondo particolare naturalmente sicuramente molto festiva non una candela da tutti i giorni ma adoro champagne naturalmente è ispirata alla Francia come sapete le candele e tutti i prodotti Ave & May ti riportano in un particolare luogo del mondo cioè ogni fragranza è ispirata ad un paese una città diversa e amo questa cosa infatti qui vedete c'è Germany Lubeck e poi allora questa è la France vediamo questa anche questa molto natalizia e questa è Dresden Germany molto adoro i pack vediamo il prossimo questa si sente tantissimo si sentono le spezie tipo speziata sa molto di Natale di mercatini natalizi di acquistini natale non lo so sa di vigilia ecco sa di vigilia questa candela buonissima ci sono due con questo pack New York City The City Life e questa invece è Moscow wow no vabbè ragazzi io non so spiegarvi il profumo che c'è adesso in casa mia è qualcosa di fantastico e guardate che packaging particolare hanno queste due candele è decisamente in pietra sono anche secondo me molto molto belle poi una volta finita la cera da utilizzare come portaoggetti o come porta candele sono bellissime veramente veramente bellissime è il profumo ragazzi di Moscow questa sa decisamente sa di natura non so spiegarlo secondo me sa di alberi di natura ma sa anche di pulito fresca questa secondo me è anche una candela da tutti i giorni purtroppo non sono mai stata a Mosca quindi non so se ricorda il profumo di Mosca mi piacerebbe molto andarci ma amo e questa invece è New York dove sono stata diverse volte no vabbè ragazzi cioè io ma come fanno questa è molto delicata e fresca mi piacciono entrambe tantissimo ma forse New York un po' di più devo dire questo mi ha colpito e mi piace moltissimo anche che sotto il vaso lo vedete ci siano anche questi si proteggi superfici in gomma wow c'è Norimberga questa la adoro ragazzi è gigantesca cioè ha tre stoppini ed ha un profumo di Natale che io non ve lo so descrivere ma sa di Natale di feste di passeggiate pomeridiane serali tra le luci non lo so ha un profumo cioè mamma mia è Natale è Natale e adoro il fatto che sia rossa è troppo bella poi c'è la special edition noir tutta nera sia la box la confezione che la candela e ragazzi ha un profumo che è decisamente molto maschile se vi piacciono i profumi maschili questa vi piacerà oppure anche un ottimo regalo secondo me per un ragazzo un uomo ha un profumo veramente anche se teoricamente non bisognerebbe dire profumi da maschio profumi da femmina perché alla fine ognuno può indossare quello che vuole però questa ricorda moltissimo i profumi da uomo veramente tanto buonissima fresca delicata molto maschile secondo me e poi ce n'è un'altra c'è l'Ubeck sempre germany amo il pack così natalizio questo sa di dolcetti natalizi alla cannella oh mio dio di decorazioni addirittura tipo di di vischio no oddio è stranissimo anche questa molto festiva molto natalizia è forse più di dolcetto secondo me questa è più dolce buonissima io ho una particolare appunto passione per le candele dolci lo sapete che sono di dolcetto quindi questo l'amo come sapete Ave & May è un brand molto serio e particolarmente ho deciso di lavorare con loro non solo appunto perché hanno dei prodotti fantastici ma perché stanno molto attenti anche agli ingredienti di tutte le candele di tutti i profumatori perché sono tutti 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 sempre sappiamo esattamente perché di solito le candele non si sa mai in realtà che cosa c'è dentro no cioè tu le accendi dici profumano però non sai che cosa c'è invece tutte le candele profumatori tutto di questo brand è 100% naturale ad esempio le mie amiche che hanno bambini sono molto attente su queste cose quindi anche in questo caso appunto potete stare tranquilli adoro ok questa accenderò per prima questa perché mi sta facendo impazzire mi hanno dato anche un codice sconto per voi che stavolta è gigantesco è del 55% praticamente pagate tutto meno della metà vi lascerò il codice qua in sovraimpressione kissmakeup55 però è valido fino a capodanno ragazzi però siete assolutamente in tempo per le spese natalizie perché fino agli ordini cioè per tutti gli ordini fatti fino al 19 di dicembre la spedizione è super rapida per appunto arrivare prima di Natale volete vedere il nuovo gioco preferito di Gatto Denver vieni amore vieni amore gli devo allora ho queste tipo crocchette ok delle crocchette e gliele lancio e lui è contentissimo e corre come un matto fate vedere si arriva tieni amore mio tieni amore mio sì vabbè questa era una falsa partenza diciamo tieni gatto Denver tieni gatto Denver già si prepara guardatelo tieni amore mio poi come corre con tutta la ciccia come un budino che oscilla bravo amore bravo amore ancora una tieni finito sì vabbè di solito corre un pochino di più diciamo che potresti sforzarti un po' di più Denver la leggiadria la leggiadria è la no ecco è finita sotto la porta prendila prendila dov'è dov'è bubu guardala qua è la mamma mia quanto sei rimbambito ancora una tieni tieni ancora una ancora una una pancia adoro ok ragazzi adesso mi preparo un brodino caldo lo so che non ho niente di figo ma quando fa freddo in inverno io voglio di brodini caldi con il formaggino ok la pastina le stelline e comunque sì adesso faccio appunto un brodo caldo mi cambio mi metto comoda mi metto subito al montaggio di questo video quindi vi saluto qui spero vi sia piaciuto questo vlog so che vi piacciono molto i vlog quindi sto cercando di farne di più vi mando un bacio grandissimo enorme vi abbraccio venite qua forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video vi voglio bene ciao